salve ragazzi come va la vita? si ricomincia questo giallo lo sto portando avanti però non lo farò tutto sinceramente non credo che sia necessario finirlo a meno che non lo volete voi io farò i livelli fino a che non diventerà caotico dopo di che metterò in descrizione nell'ultimo episodio il link per poter scaricare questo gioco e ve lo dovrete gestire bene vediamo un po' che saprete fare come la chitolo pensa proprio che ne vedrete nelle belle nei prossimi livelli per il momento non è molto caotico ma credo che ci sarà da divertirsi sarà un desiderio spero che vi piaccia come piace anche se è un po' complicato dopo un certo punto ecco adesso comincia a diventare veramente un casino cazzo ok bene bene adesso ci sarà da divertirsi è il momento di spaccare tutto spacchiamo ecgregiamente il buro diciamo che questo è stato molto veloce grazie anche ai lanciacazzi che avevo qui invece sarà questione di palle le vedete con le due grosse palle di febrile il mio obiettivo sarà appunto quello di riuscire ad accatarrarmi con le due grosse palle anche se penso di essere un po' difficile riuscire ad accatarrarmi con le due bocce però sarà divertente provarci non so ma a voi quei tre pilastri là in fondo uno con la vita in più la vita extra e quelle due palle laterali non vi danno l'impressione di un qualcosa di fallico non vi danno l'impressione di un qualcosa di fallico e un'idea potrebbe essere un caso anzi potrebbe essere che ci sta in caso in mezzo a due palle secondo voi è un'immagine che lo sviluppatore del gioco ha messo casualmente pensateci adesso va proprio bene ecco qua finalmente ho preso il prequel e dovrei riuscire cazzo ho preso quello che restringe l'astolo scusate ma adesso la situazione diventa un po' incasinata speriamo che riesca a beccare le falle forza fatemi cadere la palla d'acciaio è un po' complicato mandarlo a punto giusto dai finalmente ho sfondato la palla e adesso a fuoco devo sfruttarla al meglio questa nostra palla d'acciaio e vediamo se ci riesco oh come sfonda lei non sfonda nessuno benissimo si raddoppia ora posso dire chiaramente che tengo su miei mani due grosse palle la situazione incomincia a diventare complicata qua sicuramente ci sarà da ridere e cazzo non riesco a mandarlo nel punto giusto ah finamente ha oi per fortuna sarà gestibile ma penso che gli altri livelli non sarà così è ingestibile i singoltori che si riaccendono so che cazzo devo riuscire a mandarla nemmunque come se fosse facile benissimo, sta scendendo la micro-tamp ah, ho preso il mio esplincimento non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è no pu Schedule catch la oh ciao sono nichts cosa ma Ma io sono bravo a gestire le tue... cioè ero bravo a gestire le tue palle Vediamo se riesco a... Sto giocando a ping pong col gioco Ecco a romba sul ritzo Guardate le tue palle Le tue palle ok penso sia il caso di fermarci qui sono sicuro che mi piacerà il prossimo video seguite?